Il 34esimo chilometro di giornata oggi e stiamo ancora salendo, siamo sulla parte più battuta dal sole della salita che porta a Santa Viola, è una salita che si faceva, ahia, che si faceva nella scorsa Lessina Legend in tutt'altra condizioni meteorologiche, vento freddo e pioggia caratterizzavano l'ora la salita che oggi invece è splendidamente riscaldata dai primi soli di una finalmente vera primavera. Abbiamo pedalato bene fino qui, passando dal castello di Montorio, da Sezzano, Marzana, una salita a cavalli, discesa americana molto bella e di nuovo Grezzana per andare a prendere questa ascesa. Proseguiremo fino sotto a Santa Viola per poi ridiscendere dall'altro versante del monte. Grazie. 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 Grazie.